Insha'Allah, noi facciamo il caglio di Sina per la ricerca del calo in Sina e per la ricerca del caglio che hanno fatto adesso premiamo un gruppo di Miss Germania per una partecipazione per la loro partecipazione Can you comment? Can you comment? Yes, ladies and gentlemen I may present three international winners By the way, the one in Arendtia is from Italy Please Congratulations Congratulations This is handmade Bedouin You know Bedouin's wife Or women did it Don't forget So this is our international winner Laura From England And here is Marie from France And now we represent the three German winners Which is... D'Arna 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 And the German winner is Laura Chiara Which is next one, which is round D'Arna 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 No, no, non è così. Il medico, un medico per la medaglia. La missione di tutti, è sempre più. La missione di tutti. Grazie per tutti. Per tutti. Che aiutano dei miei. Ci rendono un altro altro. Ci rendono più a noi. E aiutano di un po' di più. E aiutano di un po' di loro. Questa è un po' di più. Questa è un po' di più. il messaggio di vostra regione che sia sicuro e sicuro che sia sicuro che cosa pensi di Sharm el Sheik? Sharm el Sheik? Sharm el Sheik è un paese molto buone con le persone buone, è molto clean e non ho visto una situazione clean che devo dire Sharm el Sheik è una paese Grazie 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 per aver guardato in vostra regione vorrei chiedere una o due domande Ok Voi sei da Miss Mermaid Cooperation? Sì, da Miss Mermaid Cooperation e prima di voglio dire grazie a tutti per la tutta del team e vorrei chiedere una domanda cosa significa per te, personalmente e anche per l'egypte per avere una Miss Mermaid Cooperation e una competizione in vostra regione? Sì, è molto bene Io voglio avere più di questa competizione qui perché questo aumenta il numero di turisti che vanno a visitare e tutti gli chiedono non vengono a Sharm el Sheik perché? perché questo è turistico e tutti gli chiedono no 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 Dormi chef è blanco. Abbiamo televisione, regionale televisione, social media. È un paese, un paese un paese. È un piacere di stare qui in Egipto. Grazie per la vostra amici. La gente in questo hotel, il grande hotel. È amici. Mi parlavo con il manager oggi e tutti in questo hotel sono riusciti. E tutti sono davvero amici. E sono honesti. Honesti. Honesti, sì. Mi piacere davvero. Quindi sentiamo il messaggio e sarebbero piaciuto. Sì, spero che ci senti questo messaggio a l'arci. Grazie molto, è un bellissimo matti. Grazie di essere qui oggi. Ok, grazie. I can nowi volta in Egipto. È un bellissimo paese. È un bellissimo paese. Ci sono bellissime persone. Tu fai spettacare? Sì, ovviamente. È incredibile. Grazie. Grazie. Questa è molto. Grazie mille.